Farò un ragionamento che forse vi sembrerà contrario all'onda generale. Noi abbiamo avuto un grandissimo vantaggio dall'innovazione. Ci sono almeno 10-15 mila pazienti in Italia che hanno cambiato la loro vita. Da pazienti che non riuscivano a uscire di casa, a mantenere i loro lavori, ad avere del turismo, a sposarsi o fare cose del genere, sono diventati delle persone normali. Pensate che in una delle associazioni scientifiche si sta cominciando a parlare di come valutare la remissione della malattia. Che non è una remissione totale, ma soltanto una remissione ovviamente condizionata al continuare ad assumere gli anticorpi monoclonali. Ma il trucco dov'è? Che ci sono dall'altro lato il 90% di persone che hanno potenzialmente l'asma grave, sono circa 300 mila in Italia. Quindi il 90% stiamo parlando di 270-280 mila, che ancora vanno avanti a cortisoni e antibiotici, che ancora non trovano il posto dove farsi fare una diagnosi giusta. E quindi non riescono a vivere, perdono i lavori, non riescono a sposarsi, perdono le moglie o i mariti. Da maschi ho detto, perdono le moglie, perdono anche i mariti. Perché la vita diventa un inferno. L'ho assaggiato personalmente sulla mia pelle ed è cominciata a 65 anni. Figuratevi, capita così. Quindi bisogna fare un grandissimo lavoro per estendere quello che si fa per i 10-15 mila oggi, possibilmente agli altri 280 mila che non hanno una soluzione. Questi 280 mila, volevo soltanto dire, che si portano dietro la possibile scelta di una ventina di comorbidità. Due o tre, fra 20 comorbidità diverse. E se finiscono sempre con cortisone o antibiotico e cortisone e antibiotico. Sono quintali di cortisone che vanno in circolazione. Vorrei aggiungere un ultimo pezzo. L'asma grave è soltanto un pezzettino, il 10% del mondo dell'asma. Noi tra di noi, diciamo scherzando, l'asma non è un fantasma. In Italia è soltanto 3 milioni, in Europa sono 30 milioni. Dove ancora non siamo riusciti, dopo tanti anni e tanto lavoro suo, mio e di tanti altri, non siamo riusciti a portare a casa dei grossi risultati. È un fantasma. Se ne parla, non se ne parla. I lea non riusciamo ad avere quello che ci serve. Ce ne ricordiamo soltanto quando sul giornale compare 21 anni, ha preso un gelato, ha avuto un attacco d'allergia, un attacco d'asma ed è morto. Ecco, direi che sostanzialmente in questo mondo, nel mondo dell'asma e dell'asma grave, dobbiamo veramente cominciare a mettere i puntini sulle i e cominciare a raggiungere piccoli risultati, ma concreti. Grazie.